Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 14 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo Sagittario. Un sabato pieno di magagne. Il sabato è una giornata ambita dai più, ultimo giorno di lavoro e poi un paio di relax. Sarà anche vero, ma con Saturno, il Sole e Mercurio, tutti quanti in quadratura, il lavoro è tanto, ma la voglia e soprattutto l'energia per svolgerlo, ahimè, pochina. Aggiungeteci mugugni familiari, peggio ancora una serata malinconica, cenando da soli come derelitti su un'isola deserta. Probabilmente ve la siete voluta, l'amore vi è passato accanto sfiorandovi, ma se avete voltato la testa dall'altra parte, declassandolo a semplice amicizia, ecco il risultato. Vero, i sentimenti impegnano e alla lunga limitano anche la libertà personale, ma in compenso regalano qualcosa di tenero e caldo, smettetela di fuggirlo, tanto Cupido se vuole vi segue comunque e ovunque. Il vostro prossimo non è così sciocco e inaffidabile come ve lo state figurando, dal segno opposto Giove, ottimista e generoso, mette in luce il buon carattere e la bella anima dei molti che fanno parte del vostro entourage e che avrebbero piacere di frequentarvi più da vicino, da cosa nasce cosa. Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Annuncia l'incontro con un uomo giovane, chiaro di capelli, anticonformista, serio, maturo e con la testa sulle spalle. Piccole gioie, un ragazzo innamorato, l'incontro con una persona che ci terrà lontano dalle delusioni e dalle fatiche della vita. Mettete da parte l'orgoglio e cercate piuttosto di chiarire una situazione difficile con il vostro partner con un vostro caro amico. Siate, in altre parole, più umili e decisi nel mettere a posto situazioni complicate. Oggi ti sentirai particolarmente timido e timoros di affronatre certe situazioni che ti stanno a cuore. Abbi più coraggio. Lasciate perdere una vecchia conoscenza che ha fatto di nuovo capolino nella vostra vita. Non porterebbe nulla di buono sì chiaro nell'esprimerti ed esigi chiarezza anche dagli altri. Benissimo amore, flirts, relazioni extraconiugali, gioco. Gioia dai figli. Una persona vorrà chiarire con te alcuni aspetti di una situazione che si è creata tra di voi, prendete tempo e cercate di non essere impulsivi. Un amore impossibile ti attirerà fortemente. Voglia di cambiamenti. Non tutti quelli che si definiscono amici poi lo sono nel concreto. Cercate di valutare con più lungimiranza chi vi circonda. Cambierai qualcosa nella tua casa, i cambiamenti saranno in meglio. Presta attenzione però ai conti. Non potete pretendere fiducia e sincerità se voi per primi, e non siete limpidi con il partner. Giove e Nettuno, pur continuano a guardarvi di traverso dal segno dei gemelli e da quello dei pesci, tenendo bloccate alcune vostre iniziative. Ma pianeti benevoli sciolgono le tensioni e preparano un autunno estremamente produttivo, che l'imminente equinozio bilancino preannuncia già molto chiaramente. È vero alcuni problemi e incertezze non si sono allentati, specie di carattere pratico e professionale. Ma venere in bilancia alleggerisce le preoccupazioni. Gli affetti stabili sono la vostra vera medicina. Sul piano dell'esercizio fisico Plutone vi dona le energie necessarie per i vostri sport preferiti, la bici e il nuoto, o anche, per chi ne è appassionato, la pesca. Ne assaporerete i benefici sia sul corpo che sulla mente. La luna sparagnina in capricorno nella vostra seconda casa appena rientrati dall'azienda vi chiude i cordoni della borsa affinché in fatto di acquisti e svaghi costosi stasera non vi vengano strane idee. Di più fanno Saturno, Nettuno, Mercurio e il Sole, tutti quanti in quadratura, blindandovi in casa o al massimo confinandovi in un cinema o in una sala congressi dove assistere a una proiezione o a una conferenza interessante. Amore ed Eros. Due cose non funzionano in amore, la possessività che ha la lunga lontana e la pretesa di cambiare l'altro ricreando la propria immagine e somiglianza o almeno su misura, in base alle proprie esigenze. Forse da idealisti quali siete dall'altro vi aspettate troppo, restando inevitabilmente delusi quando non risponde alle vostre aspettative. Senso di solitudine e malinconia Se per studio o per lavoro vi trovate in un'altra città lontane dalla famiglia, vi manca il loro affetto, le chiacchiere seduti a tavola e i buoni manicaretti preparati da mammina. Venere decisamente benevola transita a suo agio nell'amica bilancia. Aprite il vostro cuore a chi vi vuole veramente bene. Anche la luna oggi per voi è bella e aumenta vitalità, fascino e bellezza, tutti da esibire se siete single e per far girare la testa a molti e a molte. In special modo se siete nati nella seconda e terza decade. Lavoro e denaro. Sul lavoro andate fortissimo, avete idee chiare e qualunque sia la vostra professione date sempre il meglio di voi stessi, anche se la remunerazione più che livelli massimi. Tocca solo quelli minimi. Qualche difficoltà se avete acceso un mutuo e le rate da pagare si accumulano, pian piani non ne uscirete ma con la crisi economica effetto delle guerre che attanagliano il mondo un po' di preoccupazione c'è, ragione per cui a volte perdete motivazione e mordente, insomma potreste fare di più ma. Quadro professionale faticoso. Ma voi non vi pentite se accetterete di stare un po' più a lungo in ufficio per consolidare e verificare alcuni recenti affari. Con Venere e Plutone al vostro fianco, tutto vi sarà poi restituito. E con gli interessi. Benessere. Sgobbate molto e vantate una buona salute oltre che un bel aspetto, tuttavia a fine settimana ci arrivate spappolati, nessuna voglia di uscire con gli amici, peggio ancora di partire alla volta della casetta di vacanza che amate tanto anche a fine estate per belle passeggiate nella natura. Vorrà dire che andrete a nanna presto e partirete domattina, fondamentale recuperare energia, così vi sentite una buccia di banana sul marciapiede. Volete un medico di pronto intervento? Accarezzate il vostro gatto, la sua energia positiva vi aiuterà a riprendervi più in fretta. Per lei, nulla di più fastidioso e faticoso per una ragazzina il confronto con la madre ancora giovane, bella e sexy. Se avete figli adolescenti non commettete l'errore che a suo tempo ha commesso la vostra, magari non ve ne accorgete, ma ne portate ancora i segni nell'anima. Per lui, di solito amate lo sport, ma se non avete più la muscolatura dei vent'anni cominciate ad avvertire indolenzimenti vari vi scoraggiate. Ma anche la mancanza di esercizio ha la sua da raccontare, ricominciate gli allenamenti con gradualità, le vostre articolazioni ringiovaniranno. Colore delle emozioni, caffè. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.